Adesso, con grande solennità, andremo ad aprire la busta numero 79, in cui è racchiuso il nome del candidato o candidata spingitore o vingitrice. Con sicura sciontezza, il candidato si confronta con il testo oraziano e con la filosofia essenziale che l'attraversa. L'elaborato, infatti, fa trattarire sia una particolare convivenza con la scrittura del venosino, sia una notevole capacità critica, frutto di una grande passione per i classici e di una sistematica istituzio pirologico-letteraria. Vediamo. Stavolta il candidato è una candidata, quindi... Allora, liceo classico statale, quinto orazio flacco di Potenza. Noemi, lazza, lazzanini. Grazie. 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 Il secolo del Rotary consiste in un viaggio all'estero e consegna simbolicamente il presidente del Rotary Club di Venosa, avvocatesa Emenina Rosanina. Grazie. Sono molto contenta di essere qui oggi perché è una manifestazione internazionale e quindi, come voi sapete, il Rotary è un'associazione a forte vocazione internazionale. Siamo osservatorio, laboratorio e dopo di cena. Abbiamo voluto, come Rotary Club di Lenosa, che naturalmente il nome non c'è perché non sapevamo che fosse premiato, dare una taglia, perché si tratta del migliore lavorato del candidato Lucano, con l'orgoglio di promuovere un talento del nostro territorio in Europa e nel mondo, visto che il 2013 è stato proclamato Anno Europeo del Cittadino. Anzi, Caio. Ringrazio tutti per la splendida partecipazione, vi do appuntamento all'anno prossimo, auguro a tutti un buon piatto e un rientro e a Maiora Center. Grazie.